L'innovazione è guardare avanti nel cercare soluzioni più adatte allo standard che si sta manifestando sul mercato. A me viene in mente sia l'innovazione di processo che di prodotto. Sono due concetti diversi, il processo è una modalità nuova di realizzare un prodotto o innovazione di prodotto è il prodotto cambia nelle tecnologie materiali con cui viene usato. L'azienda nasce all'interno di un network molto grosso, è nata 25 anni fa come azienda di supporto alle piccole e medie imprese nel meridione o meglio per favorire l'imprenditoria giovanile nel meridione, poi è decollata su altri settori lavorando anche per grosse aziende. Ci siamo evoluti e siamo passati dagli aiuti alla piccola e media impresa e anche ai giovani che sono sicuramente uno dei core business ma abbiamo anche cercato di dare risposte alle piccole e medie imprese e anche alle grandi imprese su quelli che sono gli strumenti messi a disposizione dalle leggi di governo italiane o della comunità europea ma anche provinciali o regionali. La Lombardia per esempio ha diverse leggi che aiutano e danno supporto alla ricerca.